rieccoci qua nel nostro video tutorial sulle email tramite visual basic quindi nel video precedente abbiamo preparato la nostra email e adesso dobbiamo vedere come inviarla allora per prima cosa dobbiamo connetterci, quindi dobbiamo fare una connessione al server gmail per fare questa connessione abbiamo bisogno di creare un nuovo oggetto questo oggetto lo chiameremo smtpserver, ora vi spiego perché e sarà un nuovo smtpclient che cos'è questo smtpclient? intanto dobbiamo dirgli un'altra cosa come parametro che è fondamentale e cioè qui dobbiamo scrivere smtp.gmail.com che cosa abbiamo fatto? allora per connetterci al nostro gmail dobbiamo ovviamente fare una connessione con il server di gmail ok questo server ha questo particolare indirizzo quindi questo smtp.gmail.com smtp sta per simple mail transfer protocol ovvero protocollo di trasmissione per semplici messaggi ok oppure di messaggi semplici quindi una volta creato questo oggetto qui grazie a questo oggetto qui noi potremo interagire con il server di gmail e quindi potremo utilizzare il servizio email che offre il server di gmail spero che questa cosa vi sia chiara ora dobbiamo prima di tutto impostare qualcosina del nostro server quindi la prima cosa fondamentale è la porta la porta non è altro che un identificatore quindi identifica, è un numero che identifica un determinato servizio voi potete avere diversi servizi quando siete su internet e quello dell'email è un esempio un altro esempio è quello delle pagine web che va su un'altra porta dedicata che dovrebbe essere la porta 80 e che vi permette appunto di usare le pagine web ora il server di gmail utilizza una porta particolare che è la 587 quindi se voi vorreste connettervi ad altri ad altri smtp server che non siano gmail potrete tranquillamente cercarvi diciamo l'indirizzo del server e il numero di porta avendo queste due cose già potete tranquillamente creare il vostro programmino personalizzato che invia le email attraverso che ne so fasto e balice quello che volete voi ok benissimo ora siccome il nostro gmail utilizza come tutti ben sappiamo una diciamo una pagina di login quindi vuole nome e password dobbiamo fare quella che normalmente sarebbe la connessione diciamo al nostro account quindi io riprendo un attimo la schermata del visual studio e devo definire del mio smtp server le credentials le credentials non sono altro che l'insieme di nome e password ovvero le credenziali ora queste credentials attenzione a quello che sto per scrivere si dichiarano così quindi dobbiamo dire new system.net .network credenzial e tra parentesi ci vanno due cose la prima è l'indirizzo email che dobbiamo con il quale accediamo e la seconda è la password quindi immaginate di essere su questa schermata noi dobbiamo inserire l'indirizzo email adesso e la password stessa cosa qui dentro quindi l'indirizzo email che io ho creato è tutorial64bb chiocciolagmail.com e la password che ho messo era tutorial12345 quindi fate molta attenzione quando distribuite un programmino del genere perché qui ovviamente nome e password si vedono quindi dovete fare bene attenzione a chi lo distribuite va bene che altro dobbiamo fare siccome siamo su gmail dobbiamo abilitare la diciamo criptografia quindi la ss1 dove sta quindi enable ssl scusate secure sockets layer benissimo per abilitarla basta dire smtpserver.enable.ssl che sarebbe un metodo di codifica dei nostri dati affinché non vengano rilevati dagli hacker da chiunque diciamo si introduca nella rete e per abilitarla basta fare true quindi stiamo dicendo che è vero che questa cosa qui è abilitata benissimo a questo punto in teoria siamo pronti anche per proprio mandare attraverso il nostro server la mail quindi ci siamo connessi a questo indirizzo qui attraverso questa porta con questi dati e con questo tipo di criptografia quindi l'ultimo passo sarebbe fare un bel smtpserver.send send significa invia ma che cosa dobbiamo mandare? ovviamente la nostra mail che abbiamo creato nel video precedente quindi con questa istruzione tutte queste belle cose qua vengono prese ed inviate quindi la nostra mail viene inviata così com'è in questo momento vogliamo fare una prova? ma facciamola una prova vediamo quindi adesso avvio mi scrivo che ne so il mittente è zio pippo chiocciolagmail.com il destinatario posso anche inventarmelo guardate ah no bugia che sto dicendo quindi il destinatario è tutorial 64 pb chiocciolagmail.com io me lo copio così non lo devo stare a riscrivere ogni volta come oggetto gli scrivo prova e come messaggio gli scrivo ciao a tutti da riku defux adesso invio sembra che non sia successo niente e andiamo un po' a vedere che è successo nella nostra casella di posta quindi adesso entro e vediamo un po' qua che ci troviamo guardate un po' c'è questo bel messaggino come oggetto approva inviato da tutorial64vb chiocciolagmail.com che dice ciao a tutti da riku defux quindi vi faccio notare una cosa che nonostante abbia messo come mittente zio pippo chiocciolagmail.com comunque il messaggio è stato inviato da me stesso quindi da tutorial 64vb chiocciolagmail.com perché che cosa fa il nostro server di gmail va a vedere da qui chi lo sta inviando quindi alla fine questo campo qui la textbox1 è un po' inutile ok basterebbe semplicemente eliminarla perché tanto è inutile a meno che voi non permettiate appunto di scegliere magari attraverso una listbox una serie di mittenti e poi modificate questa parte qui appositamente ok quindi magari potreste mettere una listbox in base al valore della listbox viene cambiato il mittente e ovviamente viene cambiata anche la relativa password a meno che non abbiano tutti la stessa password questo è giusto per darvi un'idea benissimo quindi abbiamo visto che il nostro programma funziona un'ultima cosa vorrei aggiungere intanto facciamo così quindi siccome potrebbero esserci degli errori mentre noi inviamo l'email questo lo chiudiamo dicevo siccome potrebbero esserci degli errori è sempre bene mettere queste istruzioni in mezzo ad un try catch quindi lui proverà ad inviare l'email se la invii benissimo quindi fammi una bella message box e mi dici mail inviata pure sorridente altrimenti facciamo che la message box ci no scusatemi msg box ci mostrerà come errore la nostra eccezione quindi x.message non è detto che ci siano però potrebbero capitare magari non c'è rete magari che ne so qualsiasi cosa ok quindi questa parte qui è anche completa ultima cosa che vogliamo aggiungere è magari un allegato alla nostra email per aggiungere un allegato basta dire nella preparazione mail.attachments che sono appunto gli allegati .add ovvero aggiungi e qui è quasi complicano un po' le cose perché dobbiamo dire che stiamo aggiungendo un nuovo allegato quindi un new attachment e qui ci va il percorso del nostro file e facciamo così io mi sa che ne ho creato uno in c prova.txt andiamo un po' a controllare quindi questa non c'entra niente vado in c ce l'ho? si ce l'ho un prova.txt vediamo che c'è dentro dante benissimo tanto gentile tanto onesta pare bla 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 quindi proviamo a farci inviare questo documento come email come allegato volevo dire e oltre ad attaccarlo ovviamente dopo che abbiamo inviato l'email dobbiamo svuotare tutti gli allegati quindi dobbiamo fare semplicemente un dove stava la nostra email come si chiamava mail quindi un mail.attachments.clear in questo modo se vogliamo inviare altre email evitiamo di mandare sempre lo stesso allegato avviamo quindi il mittente vabbè mettiamolo prova.txt intanto abbiamo visto che ce lo sostituisci il destinatario è necessario quindi tuttora 64 vb chiocciola gmail.com l'oggetto è poesia dato che inviamo Dante il messaggio è guarda che bella poesia che ti sto mandando buona lettura ok proviamo ad inviarla cliccato su invia ci vuole un po' perché ovviamente tutte queste tutte queste istruzioni richiedono un po' di tempo che noi dobbiamo connetterci al server dobbiamo fare il login insomma ci vuole un po' di tempo dopodiché lui mi dice che la mail è stata inviata andiamo a controllare quindi io apro qui la mia casella effettivamente c'è un messaggio in arrivo dal titolo poesia guarda che bella poesia che ti sto mandando buona lettura beh visualizziamo lo vediamo che c'è e lui mi dice tanto gentile tanto onesta pare la donna mia quando è l'altro risaluta che ogni lingua deve entrare mando muta e l'occhio non la radisco di guardare quindi ragazzi come vedete ci è arrivata la nostra email con Dante e non possiamo far altro che essere belli e felici e contenti quindi il nostro programmino funziona non c'è altro da dire quindi direi che per questo video ci possiamo fermare qui spero che questo programmino possa esservi utile per qualsiasi scopo vi ricordo che ovviamente se iniziate a creare mail bomber cioè quei programmi che creano e che spammano 350.000 mail al minuto potrebbero esserci diciamo problemi sia per il vostro computer perché vedete il processo di invio è abbastanza lento poi penso che Gmail vi blocchi anche se inviate troppe mail contemporaneamente o comunque in tempi brevi quindi non so io comunque ho cercato di darvi degli spunti se volete migliorare questo programmino siete liberissimi di farlo spero che il video vi sia piaciuto se qualcosa non vi è chiaro chiedetemi come al solito nei commenti o con un messaggio privato iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e che altro dirvi buona serata a tutti per oggi ci fermiamo qui e ci vediamo nel prossimo video a presto